il motivo per cui cambiavamo di Soulcheck per cui proponevo di passare da Fulcondi a un po' più di power la scorsa volta che faccio fatica a fare al secondo boss uno degli spawn da solo però cazzo me ne frega vabbè se io sono l'unico power non è un problema mi metto vicino a tu e faccio epidemic sul mio dovrebbe arrivare fin tanto che mi aiutate non è un problema non tanto con queste il condi va bene perchè ogni atto con i cicci quindi non è un problema andiamo un po' che non avete 25 di mai vabbè masticare tanto a caso sull'ammazzarle e poi dopo fa gg si ma subito la mamma dobbiamo aspettare che spawni mamma no? me me giusto bisogna metterlo bisogna metterlo bisogna metterlo dodge ora dire gg nasce gg argon argon era l'ultimo vivo e l'ho visto che scrutava l'abisso tipo un attimo lo vediamo dai guarda l'abit l'uomo 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 su e fu così che venne strecato il canale cost l'uomo 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 al massimo dicono guarda che lo che lo modernizzano gli altri quindi sti cavoli cioè non è che guardatevi di fare cc ogni volta che potete non lo so perché ciò stabilito qui è il cavaliere dello zodiaco da capo aio è l'attacco di mano ma io puoi no no ma ce l'ho basta scrivermi ah no bolla uh me la son pescata me la son pescata uuuu pancur broccato la mistruk l'hai fatta oh vabbè mi sa che non lo carico stiamo facendo abbastanza skill dov'è cavaliere? nooo nooo il cavaliere adesso no l'astardo li avevano messo la fire l'uomo cc su mamma? ok mammeee si vabbè ricordatevi che dopo cioè nel senso dopo quando il cavaliere spunta al dietro di noi eh dove stiamo adesso ok taglietevi 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 che c'è la pozza tutti qua attacchiamo ho messo sotto il calo di veranacula doggiate sono costantemente tegra qua ha un paio di stevenzi potremmo prenderla nooo prendo in faccia ma cc a mamma cc a mamma cc a mamma no così tanto cc e ho i puni in cambogia minore tranquille doggiate ho la idea di tirarmi su lo faccio cc eh lo sto facendo bro hai un colone no la pizza no la pizza ok cc molto molto è il terreno spostatevi nooo potevo tornare su con lui come l'abbiamo mamma mia cosa triste nooo non voglio sapere cosa prendi no no fre è un coso che non mi ricordo cosa si fa c'ho quello rosso adesso c'ho quello verde è rotto in ma fre neanche se cosa serve eh sì che so che cosa serve ho una cosa che sto facendo e mi servono di verdi e del pack di di nightmare fre quello con le lame sono all'ultima parte e mi servono quelle eh neanche so cosa serve sì che so cosa serve eh eh e quelli verdi tra l'altro eh so che si 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 è il mio moschetto e lo sciarmi di aulire vengo beh scusa preferi questi o dove vado ah ah mica l'abbiamo uscita lì ma niente troppavi il mystic coin mamma mia c'è Argon se mi dai tipo 100 mystic coin te lo mando lo sai non puoi mandarlo sì ma puoi mandarlo? sì non ti mando 100 mystic coin non ti vale però se se hai un luogo lo vedo guarda che qualcuno cercando di vomitare in faccia ci è riuscito ho io? no ho io pensi che non lo so neanche vedi potrei anche essere stato io no 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 senti mi butto nella mista e muoio poi ho detto un altro in pieno ho provato ho provato tutto ho provato tutto amen fratelli grazie i miei danni ho fatto destra? no prima i prima i tutti questi i quattro del quali tre che sono quattro? eh raga non so contare ok ho capito il suo allucinazione però non esageriamo 20 stack di torment? 10 15 eh ma a me era una eh beh se state vedere sul terreno mio non c'erano eh il mio era fino a 6 volte naga basta mi sto spagando ho finito ogni con di clan che avevo e ho usato un tomo solo lanciando con di clan eh non calcolare me che io me li metto da so qualcuno ha fatto blu di di water di water no non ho capito di attaga adesso ricaro attaga ve lo dico adesso ho fatto io l'ho ancora ah vodazzi che è giù sceso qualche crete quindi ha tutti a sinistra ma si scusate ma vodazzi ha fatto adesso venturieri non ci sono nemici non so perché ma perché sono scesi l'abbiamo messo di sì sì a parte che di solito compaiono pure dopo un po' ma pallino è qua è qua come non ci sono no no la maledetta allucinazione lei è è la bolla da bram sono morto è la bolla da guardian no è la bolla da bram inutile nel tempismo peggiore no mi ha spento un outrizen dai fai una allucinazione no questi montagni di cadaveri no 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 potete anche di spawnare l'emisher lo volevo dire una sola volta che finisco a terra terra? io non conosco nessuna terra io conosco solo piani verticali e due coglioni si è quelli che vedi quando sei a terra ah ma sei quanto ok metto le cure lì state lì state lì ah blood in the water direi ciao beh se stiamo buoni qua buoni possono spawnare ah no perché cazzo è c'è da uccidere l'allucinazione che non rai sto provando ad uscire dal combat ma c'è uno stronzo che mi attacca grazie lo sto portando via vabbè mori il fine mappa con il nemico che ti segue range infinito evidentemente grazie esistica esistica ah per me potete tirare dritto poi poi vedete come lo affrontate l'ho ucciso ah mi sboccate in faccia di due a power stanno cambiato vabbè chi siete? si siamo venuti non dovremmo risponare ci hanno ritirato in su però mi sa che ho visto l'allucinazione in più no ma l'allucinazione sono normale cioè non mangi no 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 aspettiamo di esserci tutti che siamo fin vita piena aspettiamo 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 ricorrere spingati aspettiamo un cazzo l'ho detto vado si è veramente no cosa mi è stordito no ah sono passato però mi ritrassevo prima di premere perché ricordiamo che potrebbe esserci bug e Formanze devi per forza schiacciare tutta la pignata io credo che si può bugare in no perché c'è la sfera non c'è il tizio che parla quindi non credessi bug è rimasto indietro ah dai ti hanno hanno smesso di cagarti via ma c'è di cazzo te la pisciate adesso coglioni 3 meno male c'è social offners no ti spingevo di sotto come al solito mi metto il segnalino lì voi mettetevi il vostro no ho sbagliato ho sbagliato ok fatto qual'è il tasto? è alto li ho provati tutti ok e quindi l'ultimo di classe d'altra parte ok perchè fare gli scemi più facili di fare i furbi è divertente divertente mmm ma scusa cosa preferite fare il fratto o avere le fettine panate le fettine panate fettine panate ho mangiato tre fettine panate le ho digerite tutto il pomeriggio ho mangiato un branzino oggi non finiva più quel pesce ti boccano due alle cinque l'avete il ciclio si lo faccio adesso no ho sbloccato la misto la porca troia ho mai sbloccato la misto ehm no non l'ho sbloccata pensavo di sì no abbiamo zero vita adesso ho diventato e ci abbiamo... sono già sformati si perchè il power it's a power è andato da est perchè sei ancora power? pensavo fossi andato condi no no ho cambiato adesso a power prima ero condi ehm ricordatevi che ho bisogno di una mano eh sì 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 ci sono ci sono freddo ho sbloccato la misto che cosa non avevo più cure sì ma... a che serve la runa dello scolar quando puoi avere 100 di vita? merda merda sono esploso cos'è successo? non lo so faccio un ciccio se fate... se fate... se fate... ho troppo cose di agoni in giro no sono respawnato troppo presto e prendo il coso per avere più cicciva o se volete di passo a condi ah non è il cicci il problema è che... è fermo al suo lavoro ste cose qua perchè non posso cambiare la plug lines perchè se no non uscirò neanche il mio ma bene vediamo ripasso a condi via capito vi sei c'è 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 ah posso prima fare qua ok anche perchè spawn direttamente il boss adesso va che male se non avrete troppo poco condi arriviamo sempre al peo ma aspettiamo apposta a farlo riguardo che sono così abbiamo più tempo per fargli danno ah cazzo accensioni aspettavoliva sono lì ecco vero male ok la mia è morta ma sono morto sono morto sono morto pulino te lo risalzo è morto un velo niente addio mistlock è morto beh vabbè più o meno perchè adesso toccherà farli di nuovo ma io non riuscirò di nuovo a farlo e non avremo più la mistlock il giro ce la facciamo e si mistica il cazzo ma porco eh no dobbiamo non riusciamo a leggerlo questa fase qui senza fargli il cc ok ah frey vi ho tirato su io ringraziandomi solo ehm porca troia che riprende i meriti degli altri li ho tirati su io frey ho le registrazioni ho le prove si e poi guarda vedere ma era morto questo non vale quello devo dire era morto lo so prima del eh aspettate che su ehm allora se serve più cc posso prendere più cc eh mi sa che mi devo togliere Black Lancer per lo non credo che riusciamo a farlo tutti a distanza con la fase che vuoi di quale fase? ma buca puttata e che? ma che ne so sono scivolato ce l'hai la mistlock? prendo il flash golem se ne facciamo tutti i gg eh tutti i gg chiusate scusate no vabbè di che problema comunque stavo dicendo non credo che possiamo fare tutti a distanza la fase qua del cc giusto? io si io si ok allora possiamo ah vabbè ho preso il cc più grosso quindi sin caso anche io ho il flash golem prendo il cc o stiamo a distanza? prendiamo subito il cc vediamo come va va bene andiamo il buffolo si è vero tanto non spawna finchè non premi F ok presser for per test ok 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 manca nessuno noi andiamo a per l'alberto 20 13 milano anche si dolci non mi ha fatto punto bravi cindro non rispondono più rispetti ma eccoli ma sono quello sbagliato argosco va bene basta che li uccidete subito prima che muoio io arrivano al tuo rimoranto venti ma non lo facciamo la grande giusto sì peccato io sto morendo male vabbè vabbè in speed ci sta nel senso è troppo l'ho fatto stavolta infatti tipo sono in carica io damn it vabbè è morto è morto è vestigiamente meglio del globo di ectoplasma che bello giusto per darti fastidio un globo di ectoplasma argon questo no quello non mi serve perché non mi piace a me serve verde questo è idoneo non so neanche di cosa parlare è il backpack che sembra un ragno fatto di metallo sulle spalle sono le lami non solito parlate da quanti non droppati per quello quello che usava il sensei su morens ma capito 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 io invece vado io bello l'unica cosa che nel secondo nuovo preso i globo di il valore parte buona buona mb e se io ho sprecato il ciccio punti occhio sono dimenticate sarò un altro meno male che c'è quello che fa non ho già un'unica alpare e piangere Ah, schifo eh? No, l'ho fatto che schifata, maledetto, ma no. E c'è, se potete. Aspetta. Ah, vabbè, lo mantiene fino alla fase dopo, infatti, è rimasto con uno sput. Ah! Aia. No, no, ma dove vado? Un buon derogio, ragazzi. Vai, fase quale. Non sto bene in tempo. Ciao, Nor. Sì, ho fatto il giro da stronzo. Guarda, sta cazzo di fase, per me, è il mio amico. E sei leader, quindi dovresti essere quello che mi riesce meglio. È vero, perché in teoria dovevi riuscire a tankarle un po' meglio. Eh, fanno un bottero. Abbiamo visto anche Argon che lo diceva che lui lo poteva tankare. Eh, niente, ho provato una miserocca. Una prima volta sì, le prendevo tutte in faccia e le tankavo. Poi, boc... Lo arrivano, ma sicura. Ho imparato. Che, 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 che. Arrivo col c-100, io spero che stavo curando. Bolla. Ma chi ti si imbolla? Dove l'ho piazzato il... Il... Il simbolla. Mannaggia, mia. Arrivate. Jump. Skip. Ah! No, dai, come non c'ero sulla zona... No, va bene, va bene. No, ma non vuole. Fanno un'altra volta. Guarda che se perdiamo sul cibo. Sì, c'è. Eh, aspetta che non voglio vomitare sulla gente. Mi manca pochissimo. No, no, stop. L'avremmo potuto sbloccare in tempo. Ah, quando parte lo scioriamo e gli scoppiaccicci, comunque. Mo' c'è la fase split. Ma è che è inutile fargli adesso cc perché tanto split. Perché tanto si split. Però, vabbè. No, che sfiga, vado di... Ah, mi hai schifato! Ti volevo mettere lo scudo, Rito. E niente, non mi metterai io. Io un antoterreno ce l'avrei messo, gioco, però, eh. Eh, ce n'avevo 34 sotto il culo anch'io. E sono morto. Framance è morto. Anche Framance è morto, non arrivo. Anche Tony. Io ho avuto una combo terrificante. Ha iniziato spinto nel rosso, ho dirgiato per tornare avanti, ho beccato tutta l'agoni. In faccia. Siamo tutti con voi. No, no! No, vabbè. Merda. Dai, è per farmi usare il cibo, ho capito. Uso il cibo, basta. L'avevi ancora usato? No. Boh, se proprio non riuscite a stare in vita, prendete che cazzo ne sono un aspetto di invulnerabilità o qualcosa per riflettere i proiettili. Eh, la fregatura, che è la mia invulnerabilità, non vale. L'ho provato l'altra volta e non funziona. Fa sì che il punto non venga conquistato. Se volete facciamo come l'altra volta, che poi ce l'abbiamo fatta. Passo a scorgio, anni in scorgio. Io avevo bisogno di un po'. Che cosa? Io ho perso il tempo del salto e mi ha fottuto così. Io avevo bisogno di un attimo per cambiare una cosa nella build. No, fa male. PC, eh, se lo avete voglia. Il mio me l'ha fatto spettare. No, si è spostato. Che infamone. Vieni qui. Bravo. Eh, si è spostato bene. Vabbè, dai. È andato di sua punta sul specchio che mi fa darmi. Dodge? No, ho saltato. Gioco del... Criva. Eh, ti ho dato la legisprosso, ti trattacchi assieme a Thomas Green. No, 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 no. Ma... Eh, che cazzo. Ogni cosa mi sbaglio, mi specco il cc. Dai, calma, calma, calma. Cc. Ma porco. Gigi, c'è. Ho usato due cc nel momento in cui si è portato via. Ho croccato la mistra, occhio. Non la vedo rose a questa fast. Beh, arrivano le culette da te. Perché non lo sappate. Non sono abbastanza. Si è ancora un va bene. Troia. Che minchione. Sbocca la mistra che porta a troia. Oui. Non riesco a schivare i terreni. Oui. Ora, l'ho già fatto. L'ha fatto come si ti è messo. Ma chi fa il brand? Non hanno un attacco per togliere i terreni con la staffa. No. Cioè, non provo i terreni, ti posso levar le gomme. Che c'è? Ah, ci c'è, grazie. Io non le ho fatti. Tutte e due le ho fatti. Era per poi di un po' di più. E anche uno. Ne ero stavo dimenticato. Adesso arrivo con un po' di stab. Perché lo so che questo rompe il cazzo. Ok. No. No. Evaded. No. Dove cacchio non mi... Mannaggia a me. I tasti. Tengo adesso stanno di nuovo il ccc. No vabbè, tanto fa adesso. Non state a fargli ccc. Però non pre-stab si sta risolvendo. Dai, avevo saltato. Sì, vabbè, dopo. Un caffè. Credo di capire... Eh, niente. Non ciò. Mi notte. Sperto. Stannamente sono ancora vivo. Come se il cibo facesse la differenza. Io comunque ho finito la mia zona. Quindi... Anche io. Vi prego finito l'unico. No, la cura! La cura! Ok, ho schivato le cure. Non è l'ultima, vi prego. Manca... In un colpo sono solo. Ce la facciamo, ce la facciamo. Ah, mi andi a Gandalee. Gandalee. Ricordatevi di fare ccc, eh? Non ce l'ho più perché le gagne... Io già l'ho fatto, ccc. Hai detto, ero proprio questo Gandale. Sto il battaglio. Perché continua a togliarmi il target all'avversale? Aspetta un po'. Perché il gioco è simpatico. Ah, la danza! È l'apparanza. È una danza. È già finito, perché giustamente ha fasato. Arrivate. Io ho dato il gioco. Polla. Arrivo con un po' di stab. Resistance. E altre stab. Vabbè, è stato più facile dell'altra volta. Hai già vinto, raga. Eh, raga, il... Secondo tentativo. Terzo. Ormai l'abbiamo a masterare. Master frattal fattal. Master frattal fattal. It's cool, raga, tutti assieme. Unita...